Preghiamo per i nostri nonni, le nostre nonne, che tante volte hanno avuto un ruolo eroico nella trasmissione della fede in tempo di persecuzione. Quando papà e mamma non c'erano a casa e anche avevano idee strane che la politica di quel tempo le insegnava, sono state le nonne, quelle che hanno trasmesso la fede. Il quarto comandamento è l'unico che promette qualcosa a cambio, è il comandamento della pietà, essere pietoso con i nostri antenati. Chiediamo oggi la grazia ai vecchi santi, Simeone, Anna, Policarpo e Leazzaro, a tanti vecchi santi. Chiediamo la grazia di custodire, ascoltare e venerare i nostri antenati, i nostri nonni.